Cristina Scuccia, conosciuta al grande pubblico come Suor Cristina, dopo essersi spogliata dell'abito monacale, ha intrapreso una nuova vita e come anticipa TVblog entrerà a far parte dell'isola dei famosi 2023. Lo scorso novembre, nel salotto di Silvia Toffanin, Cristina Scuccia aveva raccontato il percorso che l'aveva portata alla decisione di non svestire i panni di Suor Cristina, grazie alla quale era diventata famosa partecipando a The Voice grazie alla sua passione per il canto, decidendo però di abbracciare una nuova vita. Ebbene, secondo quanto riportato da TVblog, la 32enne partirà per Londuras e si immergerà in questa nuova avventura, prendendo parte al primo reality della sua vita. Un cambio di passo radicale che arriva dopo la sua scelta di lasciare l'Italia per vivere in Spagna, iniziare in un posto dove nessuno avesse contezza del suo passato e darsi così la possibilità di ricominciare. Ma quando i reality chiamano, non sempre è facile dire no, ragion per cui l'ex protagonista del talent di Rai 2, scoperta e seguita dall'allora giudice J-Axe, ha deciso di darsi una nuova chance anche sul piccolo schermo. Lo show dovrebbe tornare in prima serata il prossimo 3 aprile con Ilari Blasi alla conduzione.